musica 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 ola ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo arrivati qui su una nuova puntata di my little bloopers oggi ci consentiremo su episodio i biglietti finiranno la galoppante ok iniziamo musica musica allora durante il segno di rainbow rush so sforza l'emblema sbagliato sul fianco forse vuole certamente essere una femmina perchè l'emblema del bullone lungo è solo per i membri di senso femminile i membri maschi diciamo l'emblema del bullone alato musica 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 nella scena della boutique carousel si ha un notevole ricompimento sul collo di twilight infatti sembra che sia assomigliante a malizia costanzo musica musica durante la scena della sospettia di pimpi due tra le puerie che lanciano twilight in aria musica vengono sottotituti da una scena e l'altra musica nella scena in cui airport è consola twilight alla sottostazione a pinchi per mancano ciglia superiori musica musica poco dopo mentre rainbow rush sta dicendo il motivo della sua non partecipazione al gran galà le sue ali appaiono capovolte musica 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 bene e questi erano tutti gli errori della dell'episodio ci vediamo alla prossima musica